In questa nuova guida su Fortnite ti spiego come risolvere così tutti i problemi sul Crash, Crash Reporter Atena, Crash Reporter, quindi oppure problemi di Unreal Engine, che Fortnite crasha senza nessun motivo nella partita, quindi andremo a fare molte cose su Windows e poi andremo a fare molti settaggi su Fortnite. Quindi iniziamo prima dal link che ti ho lasciato in descrizione, per esempio abbiamo quello del Crash Fix Packet, per esempio questo pacchetto qua lo usavo spesso sui vecchi capitoli di Fortnite e mi aiutava sempre. Quindi è un pacchetto di 200 MB, veramente 178 MB con tutti i driver da installare su Windows, quindi ti consiglio di scaricare e installare per prima cosa questo pacchetto, dobbiamo estrarlo con WinRAR, estrai i file in Fortnite capitolo 4 ed eccolo qua. Entriamo così nella cartella del pacchetto, DirectX install oppure Microsoft Runtime ed eccoli qua, tutti i driver che ci servono per far funzionare al meglio il gioco sul nostro sistema operativo e poi abbiamo il DirectX install, DirectX 12 setup che si installa mettendo tutti questi driver sulla scheda grafica ed eccolo qua. Quindi come funziona? Tasso destro sopra, copia, copia così questo percorso file, tasso destro su start, gestione dispositivi, schede video, aggiorna driver, cerchi i driver nel computer ed eccolo qua, basta abbiamo finito fino a qua, cerchi i driver nel computer. Inserisci così la cartella di tutti questi file qua, vai avanti e installi così i driver sulla tua scheda grafica. Questo qua l'abbiamo fatto manualmente e ora si fa tutto automaticamente attraverso il Microsoft Runtime ed eccolo qua, installa tutti, tutti i driver per Windows e per le nostre schede grafiche. Quindi installiamo tutto e segui come amministratore e facciamo sì. Andrà così a installare tutti i pacchetti dal 2005 fino al 2019, poi piano piano vi spiegherò anche gli ultimi driver rilasciati che dal 2019 fino al 2022. Gli ultimi del 2023 e del 2024 non ci sono ancora. Questo qua Microsoft Visual C++ 2013, poi andremo anche a installare quello del 2022. Il 2022 che sarebbe questo qua, Microsoft Visual C++ ed eccolo qua. Il 2019 e il 2022 ed eccolo qua. Una volta installati tutti, puoi chiudere anche questa cartella. Andiamo ad installare col 2022, quindi clicchiamo su per 86 e per 64 e li scarichiamo e li installiamo. Adesso vai ad installarli, ovviamente ho già installato questi software, mi dice solamente di ripristinarli. Una volta installati devi riavviare il computer, ma non farlo adesso perché una volta scaricato e installato tutti i driver puoi riavviare il computer. Chiudiamo qua. Ora, per le schede grafiche Nvidia e AMD, questi qua sono i supporti per i driver grafici e processori. Per Nvidia vai a scegliere, quindi vai a mettere la tua scheda grafica. La mia è GeForce serie 30, 30 e 70, Windows 11. Se non sai che scheda grafica hai nel computer, basta che scrivi dxdiag, dxdiag. Facciamo apri. Vai su schermo ed eccola qua. Questa è la tua scheda grafica. Questa è la mia. Con il DirectX 12 Ultimate è anche attivato. Ovviamente se usi anche il DirectX 12 su Fortnite per migliorare la qualità, rimuovi quella sezione. Poi dopo te lo spiego come fare. Perché molte persone riscontrano anche problemi, anche se migliorano la qualità del gioco. Fanno anche pochi fps e crashano anche. Quindi vai a trovare la tua scheda grafica. Trova qua. Driver GeForce Game Ready per i giocatori e driver Nvidia Studio per chi usa il computer per lavorare. Tu scarica e installa così questo driver grafico per il tuo computer e poi ti dirà sicuramente di riavviare il computer. Se ti dice di fare una pulizia completa, quindi tu metti la spunta pulizia completa e installa così il driver grafico. Driver GeForce Game Ready. Per AMD è la stessa cosa. Io non posso farti vedere l'installazione perché non ho nessuna scheda grafica AMD. Quindi vai su grafica, scegli la tua scheda grafica. Qua per esempio abbiamo Radeon RX. Se hai una serie 6.000, 5.000 mettiamo 5.000. Ed eccola qua. AMD Radeon 5.700 XT. Windows 1 64-bit Edition. Ed eccolo qua. AMD Software Adrenaline Edition. Ti consiglio di installare questo programma Adrenaline Edition. Tu basta che scrivi anche su Google AMD Adrenaline Edition. Ed ecco qua il programma. AMD Software Adrenaline Edition. È proprio un programma dove tu puoi configurare i tuoi giochi, aggiornare i driver della tua scheda grafica e ricevere anche dei regali. In questo caso io uso Nvidia App. Eccolo qua. Vado su driver. Circo i driver. Tengo sempre aggiornato così i driver sul mio sistema per non avere problemi. E basta. Drive Game Ready. Aggiorna qua. Scarica e installa gli ultimi aggiornamenti. Una volta fatto con AMD e una volta fatto con Nvidia. Passiamo direttamente al programma Web Installer DirectX e scarichiamo. Clicca qua sopra. Accettiamo il contratto. Fai avanti. Non installare questo. Fai avanti e installi così il Microsoft DirectX. Chiudiamo qua. Chiudiamo qua. Questo l'abbiamo scaricato e installato. Ora quello che ci resta da fare è entrare in su Epic Games. Quindi seguiamo il programma come amministratore di Epic Games. Fortinet ti consiglio sempre di avviarlo su Epic Games. Ma prima di avviare Fortinet avvia Epic Games come amministratore. Non avviare mai Fortinet sul desktop. Libreria. Tre puntini. Gestisci. Opzioni di lancio. Avvio questo. Faccio trattino. TX. T3D11. Avvio così Fortinet in modalità di rendering DirectX 11. Come ho detto per quelli che hanno una scheda grafica Nvidia. C'è il programma che ti ho lasciato in descrizione che si chiama Nvidia App. Scarichi, installi così la beta. Vai su grafica. E questo è Fortnite. Ed eccolo qua. Il gioco non è ottimizzato. Se tu metti tutti in prestazione non avrai più problemi di crash e lag. E fai ottimizza Fortinet. Ed eccolo qua. Ha disattivato parecchie ma veramente parecchie cose. E abbiamo ancora la modalità rendering DirectX 12. Questa qua può rovinare il gioco. Quindi noi lo andremo ad avviare in DirectX 11. Quindi trattino D3D11. Vai su tre puntini. Vai su opzioni. Ed eccolo qua. Scegliere DirectX 12. Rimuovi così DirectX 12. Texture adatta risoluzione. Per questo a te Fortnite può pesare 100 giga. A me pesa solamente sui 63. Sì sui 62-63 giga. Perché ho messo anche per scarica le risorse trasmesse che aiuterà il gioco. E fai applica. Se non dovesse bastare se riscontri ancora problemi di crash. Vai su gestisci. Entriamo nella sua cartella. Fortinet Game. Pinarys. D64. D3. 12. Questo qua. Cancella così questa cartella. Chiudiamo qua. Se in caso crashi su Fortnite. Vai sulla cartella. Cancella quella cartella D3D12. Tre puntini. Gestisci. E facciamo la verifica al gioco. Se invece è un altro proprio tipo di problema. Andiamo su esegui. Scrivi qua sopra esegui. Per cento. App data. Per cento. E fai ok. Scendi fino a giù. Fino a trovare così. Vai su app data. Vai su local. Scendi fino a giù. Fino a trovare così la cartella di Fortnite game. Save. Ed eccolo qua. Crashers. E cancela tutte queste cartelle. E svuotiamo il cestino. Aspettiamo la verifica. E ora come ultimo passaggio. Dobbiamo entrare direttamente sul gioco. Quindi. Prima di farlo. Tre puntini. Gestisci. Vai nella cartella. Fortnite game binaris. 64. Fortnite client. 64 shipping. Mostra attrapazione. Proprietà. Compatibilità. Questo tolgo la sponda. Modifichiamo la stagione di API. Tutto perfetto qua. Prime digitali. Compatibilità. In questo caso. Prova ad avviare Fortnite. Con questa. Disabilita ottimizzazione di schermo intero. E fai applica. Lo avvii in questo modo. Se no. Se non ti trovi. Se hai ancora problemi. Proprio. Se non si avvia proprio. Rimuovi questa sponda. E fai applica. E adesso. Non ci resta che avviare il gioco. Ok. Ok. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ovviamente non giocare in finestra, se vuoi giocare in finestra, giochi in finestra per vedere se non riscontri più problemi di Crash oppure gioca a schermo intero. Quindi, per altri problemi ancora c'è la playlist completa su tutti gli errori su Fortnite in alto a destra nelle schede. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.